buongiorno a tutti buongiorno salve a tutti benvenuti noi siamo arrivati al ristorante adesso ci accomodiamo in sala abbiamo iniziato a mangiare qualcosina gli invitati si stanno accomodando tra poco entriamo e iniziamo i veri festeggiamenti ok volete vedere la fede ce l'abbiamo fatta dopo tante peripezie a dopo ciao ciao scusi tanti auguri nostro matrimonio per il momento ultimatamente mi hanno chiamato adesso che è ancora l'aperitivo ragazzi tanti auguri finalmente avete riuscito questa cognata meta però vi raccomando cento di questi giorni tanti auguri una vita serena felici sempre insieme ciao auguri ciao auguri ciao auguri ciao auguri sono tutti noi siamo nel confessionale del grande fratello del grande castello ad augurare a giusi e peppe tanti auguri Allora, in registrazione per gli sposi, più di farti gli auguri col cuore, ma col cuore, col cuore proprio, siamo da Barbara Tussi, grazie per la giornata, è una bellissima giornata, un posto grandioso, penso che la manga ha cominciato, figo? Auguri sposi, ciao, auguri zio, auguri zio, ciao, vi auguriamo tanta felicità, ciao, e siamo in video, non so, tanti auguri agli sposi e tanta felicità, giochi è la terza volta che vengo, eh? auguri agli sposi e figli maschi, ok, fermo me, ci vede la musciana, guarda come affascinante, guarda, guarda, guarda la giaccia, va bene, vai, ma guarda con il quarto, normalmente, mi fa... ah, tu stai stare nella camera, video play, auguri e auguri, e figli maschi, e pure una felle, Ciao, voletevi bene per tutta la vita. Ciao ciao. Un bacio, sposa. Ciao. Sono contentissima che ti sei sposata. Anche io. Ciao. E siate felici insieme. Posso? Ah, tu stai arrivando. Un messaggio al mio amico e alla mia amica Giussi e al mio amico Peppe. Siete troppo belli e troppo giovani. Auguri, ciao, grazie. Vado? Videoplay. Carissima Giussi, carissimo Peppe, tanti tanti auguri. La vita è un'avventura, poi si è vissuta insieme davvero spettacolare. Complimenti. Auguri. Fai tanti auguri agli sposi. Ah, tu stai arrivando. Tanti auguri agli sposi Giuseppe e Giussi. Auguri. e figli amici. Tanta gioca e tanta felicità. Fai tanti. Una figlia femmina, no? Pasqua e femmina. Pasqua e femmina. Tanti auguri. Un bacio. Un bacio. Un bacio. Un bacio. Un bacio. Un bacio. Videoplay. La televisione. Non so, è già un bacio. Videoplay. Ragazzi, tantissimi auguri. Ah, tu stai arrivando in camera. Giro di là. Normalmente, ma fa... Peppino, Giussi, tanti auguri per tutta la vita. Allora, vi presento tua cugina che ti vuole dire... No, a parte gli scherzi, dai. Dopo tante sofferenze e tanti intoppi, finalmente ce l'hai fatta Giussi a coronare il tuo sogno. Felice matrimonio per tutta la vita. Te lo auguriamo. Ti vogliamo bene. Mi raccomando, però, la prima coppia deve essere di gemelli. Maschietto e femminuccia. Videoplay. Quasi ora puoi fare con Mario, non c'è stanno i problemi. Stiamo a capo. Giussi, Giuseppe, tanti auguri. Tanta gioia e felicità. Auguri figli femmina e figli macio. E' una cosa che mi scada, insomma. 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 Noi guardiamo bene. E' una cosa che mi scada. E' l'unica cosa che si sa, l'aria è troppo fredda, troppo caldo. Ma cosa stanno con me? Stanno con la gente. Ma non hai fatto le potezioni. E' un po' di giù. 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 Caglio, 50 euro, non c'è più troppo. E' un po' di giù. No, riesci. Non so, spettiamo tutti i tre, un po' di giù. 50 euro, quando ero mai pronti? 50 diviso 3? Eh, poi facevo 15, 15 e 15 da me. E' un po' di giù. E' perché? E' un po' di giù. Giuseppe, l'abbiamo preso troppo a cuore. Tutti e tre ti vogliamo bello a te Giuseppe, auguri. Dove mi devo mettere? Ah, tu stai stare nella camera. Qui non ce la faccio. Guarda lì. Questo? Si. Videoplay. Caro Giuseppe Giuseppe, che posso dirvi? Vi auguro un mondo di bene. Un mondo di bene. E che ogni giorno sia come questo, bello. Non lo so, forse ho esagerato, ma ve lo auguro lo stesso. Siete fantastici. E vogliatevi sempre bene. E vogliatemi sempre bene. Ciao. Allora, tantissimi auguri agli sposi, da zia Amalia e da zia Peppino. Lo sapete che se fate i cattivi, la sposa vi vede da qua? Io ho i vostri genitori. Ma dove sta il bottone? No! C'è il bottone, parte da solo. Videoplay. Devo premere qua. Eh, pronti? Tanti auguri sposi! Viva gli sposi! Viva gli sposi! Ciao sposi! Ci auguriamo tanto salite! Buona fortuna! Zia, sei stata sempre la nostra zia giovane. Ma anche se ti sposi, sei sempre la nostra zia giovane. Scusa, dove dobbiamo guardare? Ah, tu stai stai arrivando. Eh, allora, Peppini a Giussi. Con tanta, tanta felicità. E serenità. E serenità, pace, amore. Da noi tutti, con affetto. Affetto, sì, sicuramente. Vai! Peppe, tutto a posto? Ti raccomando quando ti vieni, non ti scudo il sigaretto. Vabbè, i pezzi. Comunque, fammela felice. Non ti dico niente più. Mamma! Ciao zia, ciao zio. Ricordatevi che noi vi vogliamo sempre bene e tanti auguri. Auguri zia! Auguri zia! Ti devi dire. Vai! Facciamo tanti auguri agli sposi da parte nostra. Tanta felicità che vogliate sempre bene. Nel bene e nel male. Perché ci potrà sempre essere nella vita. Speriamo sempre bene. Auguri. Un bacio. Ciao giussi. Aspetta, non prendi un pochino. Non ho capito, già si sta riprendendo. Italia? Oh no! Secondo me, già si sta riprendendo. Videoplay. Meno male che il lupo puzzo di scena. Papi, sì, ma spi... Si ricettanti e si ricettanti. Si ricettanti. Si ricettanti. Si ricettanti. Tranquilli. Io non c'è la faccia. Te lo faccio così. 3, 2, 1. Si gira. D'Italia? D'Italia? D'Aprimos, mecedores! Giussi, allora tu sei tu che ci insegnavo spagnolo. Noi siamo provati. Aspetta. Questa cosa è una buona. D'Aprimos, mecedores! D'Aprimos e mucha felicità! D'Aprimos! 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 Tanti auguri! Lina sta registrando. Poi dopo ci vedremo. Ok. Auguri! Però che l'ultaggio non è? Va bene, auguri Giussi, auguri Peppe. E' un malangarrato in ombra. Ma che sei un uomo tu? Ma adesso non abbiamo... ...piggiato il bottone. Ohhhh! Ti auguro un buon matrimonio. E che sarei sempre felici. Per tutta la vita. E vi voglio un mondo che prenda. Ma bisogna anche il tuo sorello, il tuo cugnato. Ah, questo possiamo fare una dichiarazione. Sì. Chiariamo che zio Peppe e zia Giussi devono... ...sare sempre felici. Sare sempre insieme e felici. Per tutta la vita. Per tutta la loro vita. Per tutta la loro vita. Un bacione... ...dalla famiglia Miele... ...con il cuore. Un bacione da... Katia... Katia Miele di Tusticini. Ah sì! Un bacione. Ciao! Ciao! Giussi, Peppe e tanti auguri... ...da noi tre. non siamo riusciti nemmeno a farci una foto con voi. Almeno vi facciamo gli auguri così. Tanti auguri anche da papà Tommaso e dal piccolo Francesco. Francesco, fai gli auguri a zio Peppe e zia... Ciao! Ciao Peppe! Ciao Giussi! Sono solo io e Francesco, senza mamma. Francesco, guarda di là e ringrazia zio Peppe e zia Giussi per la confettata che ti hanno fatto quando sei tornato dalla clinica. Dici, grazie! Vi vogliamo un mondo di bene! E così, fai la pennacchietta... E fai la pennacchietta... Fai, fai, fai! Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. È stata lunga, dura, ci siamo divertiti. Ci ha fatto piacere avervi tutti quanti con noi. E che dirvi, di nuovo tante grazie. Grazie di aver partecipato alla nostra giornata. Vi auguriamo una buona serata a tutti. Siamo felici! Arrivederci! Ciao!